Cumuli di rifiuti, sacchi neri l'uno sull'altro, una mini discarica, questa la situazione a Montalto Fugo, siamo in zona collina Salerni, dove l'indifferenziata non viene raccolta da due settimane, così come da alcuni mastelli non viene ritirato l'umido. Un problema che vive l'intera area urbana, anzi l'intera Calabria, dove le discariche sono sature e si cerca la soluzione nell'emergenza, che arriva puntuale ad ogni estate, non fa eccezione l'estate 2021, così dopo settimane di passione, proteste, cattive e odori, spunta l'ipotesi il trasferimento dei rifiuti in Puglia, regione che è riuscita a dare risposte al proprio territorio e può ospitare la spazzatura proveniente anche dalla nostra regione. La conseguenza? L'aumento dell'Atari per i comuni e dunque per i cittadini. Nei giorni scorsi i sindaci del lato cosentino hanno chiesto alla regione di indicare il luogo dove far sorgere l'eco distretto, convinti che solo l'impianto di smaltimento dei rifiuti possa definitivamente risolvere il problema. In Calabria l'unico inceneritore e a Gioia Tauro funziona una sola linea, da più parti si chiede l'attivazione della seconda, ma di risposte non ne arrivano, mentre i sindacati chiedono alla regione di fare chiarezza e indicare la strada per far uscire una volta per tutte la nostra terra dalla continua estenuante emergenza che costa tanti soldi agli enti pubblici e ai cittadini.